Allora l'idea intanto il titolo è immobilizzazione di terpeni in stato solido per il controllo e l'inibizione di infestanti su carta. Di queste parole probabilmente la parte un po' terpeni, cosa sono i terpeni, lo scopriremo più avanti. Intanto qui abbiamo l'assegnista e poi anche il collega della Biblioteca Nazionale che ci ha supportato in questo progetto perché l'abbiamo invitato perché mi sembrava anche un bel segno dire che abbiamo lavorato bene. Quindi è questo un risultato anche del progetto. Infatti lei parlerà fra un po'. Allora da dove viene l'idea? Usare piante per proteggere gli archivi? La prima cosa che mi ha detto si faceva già. Era un'idea vecchia, nel senso vecchia ma non per questo datata, ecco come cosa. Per cui l'idea di usare prodotti di origine vegetale per la protezione dei beni culturali dall'uso dell'assenzio che vediamo citato da Gaetano Volpi del furore da Verlibri, ma anche l'alloro che vedete nella fotografia, ma anche la camfora, il nim. Ci sono moltissime culture che utilizzano prodotti di origine vegetale per la protezione soprattutto dagli insetti ma anche dalle infezioni. Ed è per questo che noi come Biblioteca Nazionale quando ci arrivò la proposta di partecipare come operatore culturale eravamo molto interessati. Non ultimo perché la Biblioteca Nazionale è stata ovviamente oggetto di trattamenti biocidi derivanti dall'alluvione. Non solo acqua. No, il problema è che il materiale librario ovviamente muffisce molto facilmente. In questo caso vedete poi un'interessante digitalizzazione, visto che sto parlando di digitalizzazione, di una lettera che ci arrivò nel post 1966 sull'utilizzo dell'olio di lavanda come protezione per il nostro materiale. In quel caso loro consigliavano un'applicazione diretta sul nostro materiale che per fortuna non fu fatta. Ed è perché ci sono le necessità. Beh, la necessità di valutare trattamenti alternativi era legata al fatto che l'ossio etilene ha grossi problemi di tossicità, ma avevamo anche problematiche legate al fatto che all'interno dei magazzini di materiale culturale spesso ci sono condizioni non perfette dal punto di vista della conservazione e spesso ci si può trovare in posizioni di ponte in cui siamo in attesa di finanziamenti, di fare dei lavori e così via. Avevamo bisogno quindi di altre risorse, diciamo. Oltre a questo avevamo la problematica che si sta via via sempre presentando più frequentemente, cioè la scarsa quantità di ventilazione all'interno dei magazzini per via delle scaffalature compattabili, che voi non so se conoscete, ma diciamo servono a aumentare la densità dei magazzini. Beh, io sono stato velocissimo. Quindi gli oli essenziali e terpeni, in realtà i terpeni sono i componenti degli oli essenziali, sono delle piccole molecole e degli esempi sono fatti lì sotto. Qual è il vantaggio? Che sono antimicrobici di origine vegetale, per cui sono sicuramente già testati dalle piante da milioni di anni, hanno anche proprietà insetto repellenti, come ci ha detto Alessandro, servono, hanno un ampio spettro di azione bellissimo, perché non si usano? Intanto molto spesso sono sostanze liquide. Le sostanze liquide, quando gli diciamo sostanza liquida, lui impazzisce. Alta volatilità, poi vanno via subito, eccetera, quindi un'efficacia nel breve termine. Noi abbiamo cercato di pensare all'uovo di colombo, insomma, poi avere un solido. Qui ho messo il sistema periodico cerio, a qualcuno forse ricorderà qualcosa quando deve rubare dal laboratorio, quindi è meglio usare il solido, insomma, per cui abbiamo una riduzione della volatilità, una possibilità, quindi se riduco il trattamento a più lungo, posso anche sviluppare trattamenti con diversi solidi, eccetera, assenza di solventi, un'altra cosa che lui non voleva sentire dire, ma è ovvio, e poi anche usare, secondo anche i principi, questo lo dico, della Green Chemistry, quello che serve, non col cannone. E poi, vabbè, facilità, il cannone era l'ostrovo di gilene, insomma, eccetera. Il progetto adesso, beh, l'abbiamo fatto un po' così, l'abbiamo pensato, e ora Felicia vi spiegherà un po' meglio quello, scusate se facciamo così, ma ci piaceva essere un po' più... Vai, vai, vetti sei il microfono che se no sento a lui. Allora, ma io non ho problemi. Ho problemi a casa e di... Mi sentite, sì? Allora, sì, queste sono le attività in breve che abbiamo portato avanti. Abbiamo iniziato con un campionamento delle specie microbiche dalla carta, quindi siamo andati in un archivio che era fortemente contaminato da muffe, e lo potete vedere anche da questa lista, i funghi, le muffe erano i principali rappresentanti tra le specie che abbiamo identificato. Poi abbiamo selezionato alcune specie di nostro interesse, tra quelle che sono più dannose per la carta, quelle che riescono a cibarsi cellulose e quindi creare danni poi anche ai volumi. e questo per le specie microbiche. Abbiamo usato poi anche un insetto, che vedete da poco. Allora, i soli di cui parlava Andrea sono questi. Sono delle polveri, in sostanza, e ne abbiamo prodotte di due tipi. Le ciclodestrine, che sono degli zuccheri, e quindi per loro natura sono solubili in acqua. Invece i corristalli, che sono questi sotto, non sono solubili in acqua e hanno un tempo di rilascio del principio attivo nell'ambiente circostante più rapido rispetto alle ciclodestrine. Abbiamo iniziato a fare tutta una serie di test microbiologici in piastra, per vedere quale fosse l'effetto di queste sostanze sui vari microorganismi che avevamo selezionato. In questa foto vedete il test relativo a una muffa della carta, il claudosporium, e qui vedete che il fungo è riuscito a crescere indisturbato, mentre in tutti gli altri casi dove abbiamo aggiunto o i principi attivi puri o i principi incapsulati nei solidi, la crescita è stata notevolmente ridotta. In particolare i cocristalli sono risultati i più efficaci e la loro efficacia è risultata anche del tutto comparabile a quella dei principi attivi puri. Abbiamo fatto delle prove anche su questo insetto, il lasoderma serricorne, che è stato ritrovato anche all'interno degli archivi, delle prove di comportamento in cui è stato visto che i cocristalli, in particolare quelli a base di carvacrolo e timolo, hanno esercitato un'azione insetto repellente. Poi abbiamo pensato di fare dei test che si avvicinassero il più possibile a quelle che sono le condizioni in cui i funghi crescono effettivamente dentro gli archivi, per cui gli abbiamo fornito non terreno che normalmente utilizziamo in laboratorio per la loro crescita, ma la carta, e abbiamo ricreato un ambiente a elevato tasso di umidità. Qui vedete in queste due foto abbiamo contaminato questo settore di carta che è stato messo nella parte superiore della piastra Petri con un fungo alternare alternato e tra l'altro è un fungo che dà anche grossi problemi di allergie e quindi dove non abbiamo messo alcun trattamento il fungo è riuscito a crescere in corrispondenza di queste aree che vedete in tratteggio, dovreste vedere che sono più scure, invece le aree erano completamente bianche laddove avevamo messo il cocristallo dentro a questo tappino nella parte inferiore della Petri. E questa differenza che è già chiaramente evidente a occhio nudo è stata poi confermata tramite un test per il rilevamento della vitalità delle cellule presenti su una superficie. Qui invece vedete quella che per noi è stata un po' la prova delle prove dove abbiamo costruito due libri sovrapponendo delle pagine di carta Wattman, una carta che essendo molto ricca di cellulosa è appetibile ai funghi e questi due libri sono stati avvolti in un involucro di carta craft che è questa carta marrone che vedete e è una carta molto ricca di lignina ed è la stessa carta che è stata usata all'interno di quel deposito dove avevamo campionato per avvolgere i volumi conservati. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo questi due libri dentro dei contenitori chiusi e uno dei due l'abbiamo sottoposto al trattamento e l'altro no. Dopo circa un mese siamo andati a vedere che cosa era successo e effettivamente laddove avevamo messo il cocristallo fenazina carvacrolo che è quello il solido che ci ha dato i migliori risultati su tutti i batteri, funghi e vari microrganismi studiati i funghi non erano cresciuti e ancora una volta il test dell'ATP, quello usato in precedenza, ce l'ha confermato. Negli ultimi mesi ci siamo occupati anche di fare dei test però sui materiali perché chiaramente un trattamento deve essere efficace in termini antimicrobici, in termini di attività in settore pellente ma non deve nemmeno essere dannoso per i materiali quindi quelle stesse due carte che avete visto, quindi Wattman e Kraft, sono state sottoposte a delle analisi pre e post trattamento per vedere se il trattamento stesso aveva indotto delle alterazioni e complessivamente non abbiamo riscontrato alterazioni sostanziali. Teo, che cosa è Teo? Che cosa vuol dire Teo? Teo vuol dire Timus Essential Oil, l'olio essenziale di timo è un progetto, è un progetto, one moment è un progetto che ci sta permettendo di portare avanti quello che avevamo iniziato con il progetto adesso perché allora l'olio essenziale di timo si caratterizza per un alto contenuto di carvacrollo e timolo e quindi noi siamo andati a ricercare proprio quella pianta aromatica che naturalmente è ricca di queste sostanze e questa pianta cresce in varie zone della regione toscana tra cui l'appennino pistoiese lì siamo andati a fare campionamenti, abbiamo raccolto queste piante, le stiamo analizzando dal punto di vista del loro contenuto interpeni e propagando, propagheremo quelle per noi più interessanti ovvero quelle più ricche di questi due monoterpeni più efficaci e poi estrarremo l'olio essenziale, lo incapsuleremo all'interno delle ciclodestrine e poi nuovamente questo solido stavolta a base di olio essenziale di timo verrà utilizzato sempre per scopi di conservazione nell'ambito dei beni culturali perché anche per questo progetto abbiamo una collaborazione con l'ecomuseo della montagna pistoiese ora ripasso la parola a Andrea che vi farà vedere anche di cosa si tratta il progetto questa è un'altra cosa, prima volevo dire una cosa stupida che l'azienda agricola è al melo ed è proprio sotto il libro aperto giusto per fare così, per rimanere in tema eccetera questo invece è una ditta che produce compattatori, compattatori di cui dicevi te prima eccetera è quello che creano problemi che sono lì dentro per cui raccontando come abbiamo raccontato prima quello che stavamo facendo questa è una piccola e media impresa purtroppo di Ferrara però il prodotto è totalmente italiano quindi questo però noi di Ferrara erano molto interessati hanno visto una possibilità per il loro prodotto per l'integrazione all'interno del loro sistema sia come trattamento soprattutto come trattamento preventivo e quindi abbiamo fatto una convenzione abbiamo abbiamo un progetto quindi siamo passati avete visto lì da finto libro dell'essiccatore ad avere riempito il nostro lavoratorio di diffrattometria dei compattatori di prova e attualmente stiamo iniziando a testare le nostre soluzioni beh questo per questo siamo un po' contenti non so spero che siate contenti anche loro noi abbiamo fatto abbiamo cercato di rendere il meglio eccetera vorrevo ringraziare perché noi siamo qui siamo noi tre in realtà questo progetto è nato come un incubo cioè una barzelletta perché c'era il chimico il biologo il conservatore la c'è un altro scienziato di materiali e l'onora no biotecnologica Marco è invece un agrario eccetera quindi capite che poi ci sono colleghi dell'istituto di protezione dei beni culturali del CNR poi anche dell'università di Parma dei colleghi sono stato bravo e poi volevo ringraziare perché queste cose nascono per un'occasione il mio ex direttore Francesco Vizza e il direttore della Biblioteca Nazionale l'ex direttore Bellingeri perché tutto questo nasce da una telefonata in cui ci hanno detto sì grazie 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 Grazie.